Innanzitutto ti ringrazio per aver accettato questo piccolo spazio insieme a noi. Partiamo subito con il tuo ultimo singolo, 27. 27 è un numero importante per te, l'hai fatto uscire anche il giorno 27 novembre. Sì, innanzitutto grazie a voi per questa intervista. Sì, 27 per me è un numero importante perché significa tutta una serie di cose che mi sono successe nei vari 27 dei mesi. Perciò per fare questa mia nuova rinascita, diciamo, volevo proprio attaccarmi ad una cosa per me importante. Sono riuscita a coniugare il fatto della data d'uscita con il titolo del singolo, quindi è stato molto molto bello. Per me è proprio, cioè, vedere questo numero accanto al mio nome come primo singolo mi dà un sacco di soddisfazione. È una sorta di rinascita dopo il periodo passato con il duo Seawords, quindi un nuovo inizio per te come solista. Sì, diciamo che comunque non è stata una svolta a livello proprio umano perché comunque Loris continuerà a suonare con me, anzi a breve dobbiamo fare un video live in cui mi accompagnerà, quindi sono molto contenta anche di questo. È stata proprio una scelta personale per il fatto che, come sapete, se avete seguito X-Factor, i Seawords hanno subito un cambio di formazione in corsa e comunque questo cambio ha influito sul mio umore nei mesi seguenti, eccetera, perché continuavo a sentirmi questa presenza addosso, ecco. Sì, effettivamente, diciamo che tra l'altro a X-Factor, noi lo seguiamo anche con il sito, stiamo seguendo anche l'ultima edizione, si è sentita un po' anche la differenza tra ciò che era prima, quindi con Francesco e ciò che è arrivato dopo insieme a Loris. Ma tu hai detto che questo ha avuto un effetto particolare su di te, ha influito molto, ma quindi per questo c'è stata anche questa scelta di continuare con il tuo nome d'arte e non come Seawords. Sì, 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 per me bisognava proprio chiudere l'era dei Seawords, perché comunque già questo cambio aveva proprio cambiato tanto le cose, cioè è un cambio importante perché comunque era già da più di quattro anni che avevamo questa formazione, l'abbiamo creato insieme, siamo cresciuti insieme in tutti i sensi, perciò sì, questo ha influito tantissimo. In questo periodo si parla molto dell'eliminazione ingiusta dei Melancholia X Factor, ma ricordiamo che anche la vostra eliminazione con i Seawords è stata non esattamente giusta, diciamo era un po' inaspettata da parte di tutti. Come l'hai vissuta? Allora, tenendo conto che noi mentre eravamo nel programma non avevamo i telefoni, perciò non avevamo bene la percezione di da che parte stesse il pubblico, ok? Quindi non abbiamo saputo che il pubblico la stava recependo come un'eliminazione ingiusta fino al momento in cui siamo usciti, che lì ci hanno ridato il telefono, eccetera, abbiamo aperto internet e abbiamo visto questa balanga di commenti che gridavano all'ingiustizia. Stessa cosa è successa a me quest'anno che sto guardando, ho iniziato in realtà tardi, per cui ho iniziato a guardarlo alla quarta puntata X Factor quest'anno. Però appunto le audizioni comunque su internet le avevo viste, i concorrenti più o meno sapevo chi fossero e i Melancholia in particolare mi piacevano tanto. Quindi l'altra volta che ho guardato la puntata in diretta e proprio era l'ultima cosa che mi sarei aspettata. A quel punto, tra l'altro, stavo aspettando che la canzone uscisse perché era il giorno dell'uscita di 27. Quindi proprio ho stoppato tutti i countdown e ho fatto una storia che poi ho eliminato a breve su Instagram dicendo che ero rimasta veramente scioccata. Cioè questa è stata una grande ingiustizia. E non ho paura di dirlo, per me è stata una grande ingiustizia. Poi il pubblico ha deciso così, evidentemente davano troppo per scontato che si salvassero forse. Tornando invece a noi, tu nel tuo percorso musicale hai fatto tanti brani in lingua inglese. Questo è stato anche un nuovo inizio proprio per la scelta della lingua italiana. Sì, sì, sì. Io all'inizio scrivevo in inglese, ho pubblicato un EP e un album in inglese perché comunque, a parte il fatto che l'inglese lo amo e non lo abbandonerò del tutto perché è una lingua meravigliosa. Anzi, mi piacerebbe fare anche delle cose in francese, chissà, perché è un'altra lingua che amo tanto. Però l'italiano comunque è la mia lingua, la mia lingua madre e vivo in Italia, perciò ho capito che forse sarebbe stato meglio esprimersi principalmente in italiano. Tra l'altro, credo che ci sia molto di autobiografico nel testo. Se non sbaglio l'hai scritto durante il lockdown, è stato un tuo ritorno alla scrittura e lo vediamo anche nel testo, non riesco a dormire in una notte di aprile. Esattamente, sì, non ho nascosto il fatto che fosse stato scritto durante proprio il periodo del primo lockdown. Anzi, per me è stato proprio il giorno di svolta quella sera di aprile perché prima di questo avevo cestinato decine di canzoni che non mi soddisfacevano minimamente. Invece questa qua mi è piaciuta veramente tanto da subito. L'ho sentita mia, nelle mie corde, pronta per uscire, mentre le altre avrei voluto nasconderle. In realtà non è la prima volta che ti trovi a cantare in italiano. Nel tuo Perforse X Factor hai superato abbondantemente la prova di Luigi Tenco. Quindi è stato difficile cantare un pezzo che era così importante in quell'occasione? Allora, è stato difficile da una parte ma anche molto semplice dall'altra. Molto semplice perché è una canzone meravigliosa nella quale mi ci rivedevo molto e l'avevo comunque in parte anche scelta perché avevo già dato l'input alle artist che questa ci sarebbe piaciuta particolarmente. Molto difficile dall'altra parte perché innanzitutto è una canzone che ha fatto la storia di un cantautore che ha fatto la storia e molto difficile anche perché noi non vedevamo i nostri familiari da più di un mese e cantare una canzone del genere dedicata a una madre quando la redazione ti mette tua madre di fianco che non senti da più di un mese è molto emozionante, è molto difficile e infatti non nascondo che mi sia tremata la voce mentre la cantavo. Un po' mi dispiace perché alle prove era effettivamente venuta non dico magistrale ma molto meglio. Però avete avuto il supporto di un giudice hai avuto il supporto di un giudice era Samuel e sicuramente uno che conosce in maniera molto approfondita la musica quindi sicuramente vi ha dato una mano importante anche nella preparazione di questo brano. Sì, assolutamente innanzitutto lui ci ha messo a disposizione questa band che sono i Bandacadabra e sono favolosi questa band di Ottoni è stata una sua idea ce li ha fatti conoscere immediatamente quando ci ha segnato il brano siamo entrati subito in empatia abbiamo fatto un sacco di prove lui era sempre presente quindi ci ha aiutato assolutamente tantissimo. Per il momento nel tuo tra virgolette album da solista c'è soltanto questo singolo 27 ma hai in programma qualche altro pezzo magari ci fare qualche sorpresa tra un po' di tempo? Sì, assolutamente sto già lavorando a brani nuovi ne ho già dei testi non ultimati perché ultimo le canzoni solo quando sono sicura che siano quelle giuste però faccio tante bozze di tante canzoni e poi vado a scegliere la migliore per ultimarla e ho tante bozze, sì sicuramente nei prossimi mesi usciranno altri brani. C'è un brano che non può assolutamente mancare nella tua playlist? Eh, questa è una bella domanda in assoluto tendo non lo metto in playlist ma ogni tanto me lo ascolto volentieri Time to Pretend dei MGMT Bello bellissimo Sì da un sacco di libertà Sì, io sono amante dei MGMT quindi conosco perfettamente il brano tra l'altro se non sbaglio nel loro modo di fare musica così molto elettronica c'è anche qualcosa che rivedo nella tua musica e riascolto nel tuo modo di fare musica diciamo che è un filo autore sia nel percorso passato come Seaworth e nel nuovo percorso tuo una solista Beh, mi fa piacere che si noti perché comunque l'elettronica è una mia grande passione l'ho sempre amata la amo dall'elettronica pura tipo Tecno a Flume a MGMT o a chi la mescola ancora di più con gli strumenti veri e con la voce sì alla fine secondo me in ogni artista se si va a scavare si trova un po' di qualcun altro che sono gli artisti preferiti appunto di quell'artista a me piacciono molto loro e mi piace l'elettronica perciò mi fa piacere che si senta anche l'impronta degli artisti che mi piacciono Quando hai iniziato a fare musica avevi ben chiaro un obiettivo in mente non so tipo avevi già l'idea di di sfondare nel mercato discografico oppure volevi semplicemente trasmettere un messaggio a qualcuno Beh, non posso negare che il mio sogno è sempre stato il palco gigante con migliaia di persone perché da quando sono piccola metto in cameretta e quando canto se chiudo gli occhi ma anche se non li chiudo mi immagino che davanti a me ci siano migliaia di persone poi quando tipo vedi i documentari dei cantanti eccetera che sono arrivati tanto in alto dici cavolo però anche io vorrei essere così Quindi immagino ti manca un po' il palcoscenico in questo periodo anomalo In questo periodo più di tutto sicuramente Cosa stai facendo per superare questo periodo è difficile per tutti Ma intanto io sono ancora all'università perciò un po' devo studiare un po' non ne ho nemmeno tanta voglia perché è difficile mantenere la concentrazione il che sembra uno simoro perché non dobbiamo fare nulla però a volte è stancante anche il non fare niente bisogna staccare la spina uscire fuori con gli amici eccetera invece non è possibile Sto guardando un sacco di film ascolto un sacco di musica canto continuamente e a volte mi concedo anche di non fare niente in realtà Guarda siamo in due perché io tra un po' inizierò la sessione e sono un po' impantanato quindi capisco perfettamente lo stato d'animo a quale tra l'altro siamo praticamente coetane tu sei nata nel 98 io sono nato l'anno dopo nel 99 ah sei più piccolo di me anche wow complimenti grazie quindi capisco perfettamente la vita da studente universitario effettivamente è un po' difficile per tutti in questo periodo in cui si sta praticamente senza far nulla io si in casa sentiamo tutti un po' la mancanza di uscire con gli amici di assembrarci magari davanti a un palcoscenico di un concerto sì sì tantissimo poi quest'anno sarebbe stato un anno meraviglioso in fatto di concerti perché c'erano artisti internazionali in Italia veramente validi da Harry Styles a Dua Lipa Billie Eilish lasciamo stare perché veramente viene una tristezza a pensarci e progetti futuri invece cosa hai in mente di fare magari una volta terminato questo periodo spero intanto che si riapra la fase dei live finalmente per poter fare più live possibili che è ciò che ho sempre fatto anche quando anche prima del programma facevo tantissimi live quindi spero innanzitutto quello dopodiché spero di fare altri brani farli uscire magari fare un EP e speriamo speriamo di ascoltarlo presto questo EP perché è veramente un piacere ti confesso che da quando ho iniziato ad ascoltare 27 l'avrò ascoltato in loop almeno una quindicina di volte mi fa molto molto piacere io ti ringrazio ancora una volta per essere stata qui con noi per queste parole se vuoi lasciare un messaggio ai nostri lettori intanto se volete ascoltare la mia canzone si intitola 27 io sono Granger scritto Granger mi potrete trovare su Instagram come sono Granger e su Spotify come Granger ovunque lunedì farò uscire il video Lyrix della canzone perciò se volete potete provarla anche lì e grazie mille per questa intervista mi ha fatto super piacere mi è venuta in mente un'ultima domanda da dove nasce questo tuo nome d'arte? ah questo nome nasce da Harry Potter sostanzialmente che è il cognome di Ermione mia mamma mi chiamava così da piccola perché abbiamo lo stesso caratterino un po' spocchioso però in senso buono secondo me e quindi poi alla fine anche i miei amici hanno iniziato a chiamarmi così e l'ho continuato a usare su Facebook su Instagram alla fine la gente pensa sia il mio secondo nome o il mio cognome perciò è rimasto l'avevo immaginato ti dirò la verità l'avevo immaginato va bene ti ringrazio ancora per essere stata qui con noi e ti auguro tutto il meglio per questa arriera artistica grazie e volevo fare anche tanti auguri di buon Natale a tutti visto che sarà un Natale un po' particolare spero che lo possiate passare bene grazie grazie mille grazie mille